salve a tutti ragazzi oggi mi è arrivato un bellissimo pacco adesso la prima insieme come avete letto della marvel e anche dal titolo allora come taglie queste tute vanno più che bene prendete la taglia vostra che vi troverete bene è un po sintetico però come come è stata fatta che si vede è stata fatta davvero bene anche all'interno le cuciture si riescono a vedere si vedono molto che sono state fatte molto bene questo è il pantaloncino comunque di questi di questi modelli fanno diversi colori che vi farò vedere sotto qui qui ecco questi sono tutti i modelli che fanno e adesso vediamo anche la maglietta ragazzi anche questo pantaloncino a delle cerniere delle tasche con delle cerniere che anche è difficile da trovare però potete trovare tutto adesso vediamo la maglietta e volevo dire anche un'altra cosa di queste qua anche dalla marvel ci sono anche della pulitzer il gioco che potete andare a vedere anche nella descrizione che vi lascio questa è la maglietta maniche lunghe bella morbida anche la stampa è fatta bene comunque su aliexpress ci sono diverse tute che potete andare a vedere che se volete mi commentate sotto nel video vi vi consiglio alcune tute che rispettano le vostre esigenze questa è la maglietta sempre cuciture fatte bene è una bella maglietta vediamo anche questa è la calzamaglia sintetica sempre della marvel questo è abbastanza aderente deve andare aderente mantiene abbastanza caldo sempre fatta bene bene comunque ragazzi questa la questa tuta tutto ha pagato una ventina di euro e con gli sconti puoi arrivare anche a 15 euro però aliexpress alla fine verrà spedisce sempre in 30 40 giorni ed è fatta davvero bene allora per questo è tutto al prossimo video ciao ragazzi non venite dimenticate di mettere un bellissimo like al video iscrivervi al canale e attivare la campanellina ciao 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 ciao